Siamo in via delle conserve dove sono iniziati i lavori di ristrutturazione del manto stradale, siamo con l'assessore competente al comune di Arezzo, Casi. Allora, come procederanno i lavori? Allora, i lavori innanzitutto c'è un'ordinanza in corso che prevede fino al 26 di gennaio quella che è la chiusura della strada in orari, in fasce di orari, che va dalle 8 e mezzo la mattina fino a mezzogiorno e mezzo e dalle 2 fino alle 5 e mezzo. Questo perché in alcuni tratti in cui stiamo rifacendo la manutenzione dell'asfalto in cui non è possibile per conformità della strada, per larghezza proprio della carreggiata, di poter passare con le auto durante le lavorazioni. Comunque, da un incontro che abbiamo fatto con la ditta nella mattinata di sabato ci siamo messi d'accordo e la ditta ci ha confermato che comunque lascerà il transito in senso unico alternato durante la strada oggetto di manutenzione. Questo in seguito a qualche protesta da parte dei residenti che appunto hanno chiesto questa soluzione, che perlomeno ci fosse l'alternanza di passaggio, non proprio la chiusura totale. Sì, esatto. I cittadini comunque ci hanno mandato delle segnalazioni. Prima di intervenire abbiamo fatto un sopralluogo, almeno nella parte diciamo con più oggetto di richieste e abbiamo appunto deciso di usare anche un'attrezzatura idonea, quindi con macchine finitrici di larghezza 2 metri che permetteranno appunto quello che è un lavoro che permetta il traffico veicolare. A monte di tutto questo c'è un intervento di messa in posa della fibra ottica, no? Esatto. Qui c'è un gestore privato che ha fatto un'operazione di installazione della fibra e a seguito di quello che è l'installazione della fibra chiaramente doveva essere portata avanti le lavorazioni di manutenzione del manto bituminoso e quindi stanno procedendo diciamo con la realizzazione di quelle che sono le lavorazioni di ripristino.